Eccoci qui il sabato notte lei questa bellissima fanciulla che mi ha deciso di emanettare lei è ospite del venerdì village ma per quale motivo si dice venerdì perché lei è ospite il venerdì notte dove qui al al convento al convento ilonato ok siamo sicuri che al convento è nato allora il tuo nome claudia claude ha deciso di sposarti si ok ho deciso di sposarti claudia con chi ti sposi alessio alessio allora intanto iniziamo a camminare verso l'ingresso allora facciamo le prove come l'altare con alessio che non sarei così però quasi allora ebbene faccia pinta io che sia tuo padre allora alessio dimmi subito un pregio di alessio dolcissimo è dolcissimo e vediamo qua mi dici la cosa che ho di più di lui vai tutto di lui ah e perché lo sposi perché lo amo tutto di lui ho capito capito ho capito tutto che non ti piace di lui ah no è il contrario da quanti anni è che sei fidanzata cinque anni e mezzo quindi ti sposerai arriverà sei a 6 quando è che ti sposi 29 settembre ti festeggi presto da dove vieni milano 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 una città lombarda giusto il capoluogo di che regione lombardia ok confermato lombardia inquardiamo il carciofo che rigorosamente è vero è un cavolo è un broccolo la signorina dice che è un broccolo io ero convinto che era un carciofo da noi da noi non sono arrivati questi ortaggi ma come mai hai scelto questo ortaggio non l'ho scelto io me l'hanno fatto le vipere che vedi qua le vipere dietro di te allora invece il tuo book come sarà il tuo al matrimonio e non si può dire non si può dire nell'orecchio ha detto un buchet di ortiche io l'ho voluto dire quindi all'altare vogliamo vederti con un buchet di ortiche ok io ti faccio tanti auguri al tuo matrimonio e te alla tua milano dove parlerai di questa serata mega galattica del convento ilonato ok certo saluta tutta milano verso in camera ciao milano ciao 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 ciao